Jessica Biel, ecco perché io e Justine non ci siamo baciati a lungo Jessica Biel e Justine Timberlake sono marito e moglie del 2012. Tre anni dopo, i due sono diventati genitori di Silas Raddai. Ma com'è nata la loro storia? E perché non si sono baciati per settimane? A rivelarlo è l'attrice, nel corso di un'intervista. Telefonate e e-mail. Ospite della trasmissione tv The Late Late Show with James Corden, Jessica Biel ha raccontato qualche dettaglio della sua storia con loro marito Justine Timberlake. In particolare, ha parlato di quando si sono conosciuti, e di come la loro relazione è cominciata. Non ci siamo baciati per moltissimo tempo. Justine era in tour, e noi parlavamo al telefono come due adolescenti. «Facevamo solo lunghissime telefonate, e a lungo non siamo riusciti a scambiarci neppure un bacio», ha confessato. Un bacio che avrebbe dato vita ad una delle più belle storie d'amore di tutta Hollywood. Perché, Jessica e Timberlake insieme sono davvero pazzeschi. Sono bellissimi, sono due genitori innamorati pazzi del piccolo Silas Randall. E amano prendersi in giro. Ancor più da quando sono diventati marito e mogli. Ha poi raccontato, Labiel, un altro dolcissimo aneddoto sulla sua storia col cantante. Un aneddoto che ha per oggetto un'email inviata dall'attrice alla sua migliore amica. Era un'email molto divertente, la mandai a Michelle, la mia socia di produzione e migliore amica. Le scrissi, non posso essere presente a quell'incontro, devi cancellarlo. So che sposerò quell'uomo, puoi dirlo a tutti tranne che a tuo marito, ha raccontato Jessica Biel. Che, ora, Liustin è davvero la moglie. Da ben cinque anni. I due sono stati visti l'ultima volta insieme in pubblico agli US. Open, intenti ad assistere al match tra Roger Federer e Feliciano Lopez. Vestiti casual, ma, del resto, Jessica Biel anche senza trucco e splendida, sono apparsi più affiatati che mai. Con Justin che le parlava all'orecchio, e Jessica che gli sfiorava le labbra. . Sì, sono davvero i due piccioncini di Hollywood e . Un matrimonio saldo. . Ma qual è il segreto dell'amore che lega Jessica Biel a Justin Timberlake? Crediamo nella lealtà, nell'onestà, ci piace divertirci e amiamo le stesse cose, ha dichiarato tempo fa l'attrice nel corso di un'intervista a Marie Claire. . Siamo entrambi molto concentrati sulle nostre carriere, il che ci rende un po' egoisti. . Se però riesci a trovare qualcuno che condivide i tuoi stessi obiettivi, allora è fatta, ha continuato, raccontando poi di come essere madre l'abbia cambiata. . Non l'avrebbe mai pensato, di vivere uno sconvolgimento con la maternità. . In realtà, come da lei stessa documentato su Instagram, Jessica si è persino ritrovata a mangiare sotto la doccia per mancanza di tempo. . Quando diventi mamma pensi di essere più altruista, in realtà non è così. . Questi esserini arrivano e cambiano la tua tabella di marcia. . . La tua vita non è più tua, ma niente è più importante di loro, ha dichiarato. . Dando voce ai pensieri di un po' tutte le mamme. . . Perché quelle famose non fanno eccezione, soprattutto se come Jessica vogliono occuparsi dei loro figli in prima persona, delegando il meno possibile. .